Benvenuti in Bruno Solle. Bruno Solle è un marchio tedesco fondato da Bruno Solle nel 1957, si è distinto nel corso degli anni per la sua attenzione maniacale ai dettagli e alla precisione. La passione per l'orologeria è nata in Bruno Solle a soli 17 anni, quando entrò a far parte della fabbrica di orologi di suo fratello. In poco tempo, Bruno Solle si è reso conto che il mondo degli orologi da polso avrebbe rappresentato il suo futuro, e ha iniziato a dedicarsi alla produzione di orologi con diversi marchi. Ma è con il marchio che porta il suo nome che Bruno Solle ha raggiunto l'apice del successo. Gli orologi Bruno Solle sono famosi in tutto il mondo per la loro precisione, la loro eleganza e la loro resistenza. Grazie alla passione per l'orologeria e alla cura dei dettagli, ogni orologio Bruno Solle rappresenta una vera e propria opera d'arte. La collezione di orologi Bruno Solle comprende una vasta gamma di modelli, dalla classica eleganza dell'orologio grandioso alla modernità del Glashute Edition, passando per il raffinato stile vintage del Chronograph 2. Tutti gli orologi Bruno Solle sono caratterizzati dalla loro estrema precisione, grazie ai meccanismi automatici o a carica manuale che garantiscono un funzionamento impeccabile. Ma la precisione degli orologi Bruno Solle non si limita solo alla loro meccanica. Ogni dettaglio, dalle lancette ai numeri sul quadrante, è stato curato con la massima attenzione per garantire la massima leggibilità e la massima precisione nel segnare il tempo. Inoltre, gli orologi Bruno Solle sono realizzati solo con i migliori materiali disponibili. I quadranti sono in argento massiccio o madreperla, i braccialetti sono in pelle di alta qualità o in acciaio inossidabile, e la cassa degli orologi è in acciaio inossidabile o in oro 18 carati. In conclusione, gli orologi Bruno Solle sono il risultato dell'esperienza e della competenza che l'azienda ha acquisito nel corso degli anni. La qualità dei materiali utilizzati e la precisione del movimento svizzero rendono questi orologi da polso unici nel loro genere. Grazie a tutti.